Musica Ben trovati con l'informazione sportiva di Molise TV. Pomeriggio di festa a Baranello, quello di sabato, è stato infatti inaugurato il nuovo campo sportivo in erba sintetica. Vediamo il servizio. Una grande festa è stata organizzata dall'associazione AS di Baranello con il patrocinio del Comune in occasione dell'inaugurazione del rinnovato campo sportivo del Paese. È stato necessario più di qualche anno per la realizzazione del nuovo manto, ma i risultati ad oggi sono da invidiare. Un'erba sintetica di ultima generazione e l'omologazione dell'impianto per la partecipazione a tutti i campionati regionali fino all'eccellenza. Il primo pomeriggio ha visto protagonisti i bambini delle scuole calcio per un quadrangolare inaugurale vinto dai piccoli calciatori di Mirabello. Dopo la premiazione dei bambini è andato in scena il taglio del nastro ufficiale da parte del presidente della regione Molise. Il nuovo terreno da gioco è stato poi calcato dalle vecchie glorie del Baranello calcio che, divise in due formazioni, si sono affrontati a viso aperto per una gara piena di amarcord per i più grandicelli e di sorrisi e di risate per i più giovani che hanno visto tornare in scena i propri papà. Ci sono voluti otto anni di migrazioni prima che il Baranello potesse tornare a giocare nel proprio paese ed il momento tanto è atteso è arrivato sabato sera, quando sul sintetico si è giocato il terzo turno del campionato di seconda categoria Girone C tra Baranello e Boisielsi, finita per la cronaca 1 a 1. Insomma, una giornata di sport a 360 gradi che ha coinvolto tutte le generazioni, a partire dai bambini delle scuole calcio, passando per i giovani della prima squadra del paese per arrivare alle vecchie glorie del Baranello. Passato, presente e futuro sono scese sullo stesso terreno da gioco per rappresentare l'importanza assunta dallo sport in ogni singolo paese della regione. E dall'inaugurazione del campo sportivo di Baranello era presente anche il presidente della FIGC LN di Molise, Piero Di Cristinzi. Ascoltiamo le sue dichiarazioni nell'intervista. Piero Di Cristinzi, presidente della FIGC LN di Molise. Nonostante il periodo di crisi economica rilevante, Molise ancora vince lo sport e lo dimostra l'inaugurazione del nuovo campo sportivo di Baranello. Sì, per noi oggi credo che è un ulteriore tassello a quello che è la ristrutturazione degli impianti nella nostra regione. Certamente un progetto portato avanti dalla regione e questo è uno di quegli impianti finanziati in parte dalla regione che diventa un'altra pietra importante di quello che è l'impiantistica regionale destinata al calcio. Impianti di qualità, di grande qualità direi, dove sicuramente partendo dai piccoli amici ai pulcini a tutti coloro che faranno attività di calcistica troveranno dei benefici enormi. Perché fare attività su un impianto di qualità vuol dire tante e tante cose. Crescere bene, formarsi bene e poi anche per quelli meno giovani giocare un calcio praticamente su un impianto a norma e fatto bene è un motivo di grande aggregazione e anche di grande soddisfazione. Oggi è stata organizzata una bella giornata di sport che parte dai pulcini, dalle scuole calcio protagoniste con un quadrangolare per passare a una gara che vede come protagonisti le vecchie glorie del Baranello e poi il ritorno del Baranello, dell'ASD Baranello che torna a giocare in casa realmente dopo otto anni. Sì, sì, un bel programma che guarda un poco in tutte le direzioni di quello rivolgendosi le vecchie glorie vuol dire il passato che non bisogna mai dimenticarlo perché non c'è futuro se non c'è passato. Poi rivolto ai bambini e poi a quello che è l'attività calcistica attuale che è la squadra di calcio che si è riorganizzata in un'unica formazione e credo che guarda molto molto lontano per il prossimo futuro. Io devo fare i complimenti in particolar modo al sindaco, all'amministrazione, anche al sindaco precedente che Cottenacia ha voluto realizzare questo impianto che ha avuto un processo abbastanza lungo però oggi è una grande realtà, è un impianto che ha norma perfino al campionato di eccellenza, manca soltanto una tribuna che a breve sarà realizzata, praticamente sarà un bellissimo impianto alle porte di Campobasso che darà respiro anche a tante e tante formazioni dove sull'impianto di Campobasso spesso trovano delle difficoltà. Tra breve verrà inaugurato anche il nuovo campo sportivo di Ripalimosani, ancora un altro impianto rinnovato in erba sintetica e come diceva lei poco fa di qualità. Sì, in pochi mesi, qualche mese fa Riccia, adesso oggi Baranello, fra 15 giorni si farà l'inaugurazione e l'inizio dell'attività a Ripalimosani, una società gloriosa negli anni che ha fatto tanta attività calcistica e oggi finalmente potrà avere l'opportunità lo stesso di avere un impianto di qualità. Questo farà soltanto bene a tutto il sistema e in più invoglia anche chi ancora non c'era un impianto di questo tipo a cercare di ristrutturarlo e metterlo a norma, possibilmente in queste condizioni. Veniamo ora al calcio di Lega Pro. Il Campobasso domani torna nuovamente in campo. A Latina è in programma il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia. In bimbo darà spazio a chi sinora ha giocato di meno perché domenica il Romagnoli arriva all'Aquila in una sfida da vincere a tutti i costi. Intanto ascoltiamo il servizio con le dichiarazioni di Capitano Antonio Minadeo in golla a Gavorrano. Gavorrano Campobasso, partita che ha lasciato la mano in bocca ai tifosi rosso-blu. A commentarla per noi il Capitano Antonio Minadeo, autore della seconda rete, che ha portato solo per un attimo il Campobasso in vantaggio in terra toscana. Gol davvero buono, degno di un giocatore di esperienza che con precisione ha fatto tirare un sospiro di solliavo alla sua squadra, non nascondendo di aver provato un piacere particolare a segnare proprio con la maglia rosso-blu. Abbiamo visto la partita, è successo un po' di tutto, eravamo riusciti ad andare due volte in vantaggio, poi l'arbitro ha fischiato un fuorigioco, non l'ha fischiato, ha dato la punizione sui sei secondi, quindi non sappiamo, ogni domenica ce ne capita uno, sembra una cosa strana, però è così. Il Capitano ha poi continuato ammettendo che nonostante il pareggio è giusto valutare il bicchiere mezzo pieno, poiché in questo periodo è sempre bene tornare a casa con un punto piuttosto che con un nulla di fatto. Abbiamo preso un punto, fa morale, fa classifica, abbiamo messo un po' la classifica, veniamo da un momento, stiamo cercando di fare qualcosa di bene, anche un punticino per la nostra classifica fa morale. Come ultima battuta Minadeo ha voluto scuotere le coscienze dei campobassani che non seguono più la squadra della città, ammettendo con un pizzico di nostalgia mista al rammarico che dal canto loro dovranno impegnarsi maggiormente per raggiungere risultati concreti. Mancano i risultati, penso io, è chiaro che il cuore nostro è rosso-blu e rimarrà fino alla fine. Oggi anche con quei quattro tifosi quando ho fatto gol mi è venuto spontaneo andare vicino a uno striscione che per noi campobassani vuol dire tanto. È chiaro che il momento è difficile, la squadra è giovane, sta facendo pochi punti, però il nostro tifo io lo so bene, mi manca, mi manca tanto, però spero che se continuiamo così con qualche risultato in più, qualche persona in più venga allo Stato. E come ogni martedì la rubrica chi sale e chi scende, i top e i flop del fine settimana sportivo, vediamo. Top e flop, alti e bassi, beltai e orrori, veniamo alla lista di questo fine settimana sportivo. Sorride, ride e soddisfatta l'Isernia che domenica scorsa è andata a prendersi la vittoria del derby in casa dei cugini dell'Olimpia agnonese. Sulla scia del primo successo della stagione, arrivato con qualche giornata di ritardo, i biancocelessi di mister Farina hanno ingranato la marcia giusta e hanno asfaltato i Granata che dal canto loro hanno perso l'imbaltibilità. Brava Isernia, prova Gagliarda. Con le unghie e con i denti si conquista un posto tra i belli della settimana e il Campobasso. È stato un weekend di prime volte per il Rosso-Blu. Primo punto conquistato in trasferta, prime due reti insaccate fuori dalle proprie mura amiche e prima marcatura stagionale firmata dal difensore col vizio del gol. I lupi stanno prendendo le misure, ora sarà la volta di puntare e sparare l'Aquila facendola cadere giù a Selvapiana. E torna tra le vincenti anche il Termoli, a cui il successo mancava da quel Termoli San Cesario 3-0 andato in scena il 9 settembre. Si sbloccano i giallorossi in casa della Civitanovese, dove è bastata soltanto una rete per mettere in saccoccia i tanto desiderati tre punti. Stavolta il direttore di gara non si è messo di traverso. E se Lisernia ha conquistato un posto tra i top team, l'Agnone, dopo sei giornate di pole position, è scesa tra i flop. Una sconfitta che ci può stare, dato l'ottimo inizio di stagione, che ha visto i Granata imbattuti grazie a prestazioni galoppanti. Lisernia invece è arrivata al Civitelle fresca e entusiasta, decisa a non lasciare niente ai padroni di casa, e ce l'ha fatta. Nel calcio regionale va giù il vasto Girardi, affossata tra le mura amiche dalla corazzata Boiano, che continua in perterrita la sua corsa al vertice a punteggio di 18-18esimi. Gli altomolisani cedono sotto il peso di Bernardi, Corradino e compagni, e scalano improvvisamente di tre posizioni. Infine scende il Sessano, che davanti al proprio pubblico incassa una sconfitta di misura dal sesto campano. Poca continuità, ma come matricola non c'è male. Veniamo ora al calcio di Serie D. Lisernia dopo due successi consecutivi in campionato. Domani torna in campo per la gara di Coppa Italia, deriminazione diretta in casa del Fidene. Domenica invece all'Ancellotta arriveranno i Romani della Strea. Ascoltiamo l'allenatore bianco celeste Francesco Farina, che torna sul derby di Agnone e si proietta al futuro. Nell'intervista realizzata da Daniele Petrecca. Francesco Farina abbozza un sorriso, ma oggi ci sarebbe da sorridere veramente perché Lisernia ha fatto la partita perfetta e il risultato alla fine ha anche premiato. Sì, i ragazzi hanno fatto un grandissimo primo tempo. Nel primo tempo, secondo me, abbiamo meritato la vittoria. Poi nel secondo tempo è uscito fuori l'Agnone, che è una squadra, secondo me, fortissima. Abbiamo tenuto a botto. Sono stati fondamentali i due ingressi di Palumbo e Velardi, che hanno dato tanta consistenza alla squadra. E quindi i ragazzi hanno meritato il successo. Però, credete, vincere qua è una partita difficilissima. Io credo che poche squadre ci riusciranno. E devo dare risalto ai ragazzi, anche agli Ultra, che hanno fatto una grandissima prestazione. Quindi si vince in 13 addirittura. Ci mette anche gli Ultra con il Presidente. Insomma, è un gioco di squadra. Oggi però Lisernia è riuscita a bloccare gli uomini chiave dell'Agnone e a interrompere il loro ritmo e le loro seconde palle. Quindi poi alla fine è riuscita a colpire. Cosa non le è piaciuta? Una cosa che non le è piaciuta? La possiamo trovare oggi? A me non è piaciuto la poca voglia di cercare il terzo gol. Perché queste partite, ne ho viste tante nella mia carriera, no. Il gol loro è nell'area. Quindi noi, quando loro venivano su tanti, con la linea altissima, noi dovevamo cercare il terzo gol con Panico, Artea. Però ci siamo accontentati del 2-1. Perché abbiamo una grande difesa. Però là dobbiamo migliorare. Là si va dentro e si cerca il 3-1. Vorrei fare un applauso veramente a tutti quanti. E vorrei dire una cosa importante. Purtroppo il calcio è fatto così. Quando si vince, si vince in 13. Quando si fa male, perde solo l'allenatore. Però fa parte del nostro mestiere. Va bene così. E va bene così, soprattutto perché questi tre punti arrivano. In un momento non facile. Dopo la vittoria con l'Angolane siamo d'accordo. Però questo derby era fondamentale per due ordini di ragione. Dal punto di vista morale e per la classifica, che adesso comincia a parlare la lingua che forse doveva parlare. No, la lingua. Noi ci dobbiamo salvare. Noi abbiamo un budget ridotto. La società ci sta vicino, ma un budget ridotto. E abbiamo 20-22esimi nuovi. Riuscire già nel mese di ottobre ad esprimerci così, come nel primo tempo, è importante. Però noi dobbiamo stare con i piedi per terra. Può arrivare qualche risultato negativo. Però noi adesso dobbiamo cercare solo di tenere i piedi a terra. E da martedì lavorare. Perché la strea che incontreremo domenica, secondo me, è una delle favorite per il campionato. Visto, allora, in bocca al lupo, complimenti. Oggi è tutto per voi, anche per lei. Ci si gode il successo o si pensa già alla prossima partita? Io penso già alla prossima partita. Io non riesco a godermi niente in questo mondo. Il mondo del calcio è un mondo stupendo, però non ti fa godere niente. Sicuramente stasera sì, però da domani mattina incontreremo a pensare la strea, perché per fare risultato bisogna pensare a tutto. Il Termoli a Civitanova Marche è tornato al successo, dimostrando grande carattere. Ora la chance di risalire la china della classifica è rappresentata da due gare consecutive al Cannarsa, dove arriveranno il Celano ed il Città di Marino. Si tratta di due gare abbordabili per incamerare sei punti. Il servizio. Il Termoli è rientrato da Civitanova Marche con tre punti in tasca. Dopo un buon pareggio con l'ormai ex capolista maceratese, è arrivato un successo che muove la classifica e fa morale, dal momento che la conquista del Bottino Pieno mancava da quel Termoli San Cesario 3-0, valido per la seconda giornata di campionato. In questa parte della stagione dovranno venire fuori tutte le potenzialità dei giallorossi di mister Domenico Giacomarro, che dovranno centrare il necessario obiettivo della continuità propedeutico per la conquista di qualsiasi altro risultato. I numeri per adesso sono confortanti. Dalle sette gare giocate sono maturati nove punti, frutto di due vittorie, tre paregge e due sconfitte, con 13 reti fatte e 11 subite. Una squadra che segna e che fa segnare, come vuole la tradizione dello spettacolo calcistico, che da sempre regala batticuore a tutti i tifosi. Sono intanto riprese le sedute d'allenamento per preparare la gara di domenica prossima, che vedrà i giallorossi impegnati al Cannarsa contro il Celano. Formazione posizionata in coda alla graduatoria con quattro punti, conquistati grazie ad altrettanti pareggi e tre sconfitte. Un incontro alla portata del team di Patron Nicola Cesare, che deve imboccare una volta per tutte la via maestra, iniziando a credere maggiormente nelle proprie potenzialità, che oggettivamente sono notevoli. E l'Olimpia agnonese, che ha perso domenica con l'Isernia alla sua prima partita stagionale, si rimbocca le maniche per cercare di tornare a far punti già arrecanati. Ascoltiamo l'allenatore Granata Corrado Urbano. Corrado Urbano è una sconfitta che prima o poi doveva arrivare, forse magari non col derby, però oggi l'avversario ha sbagliato veramente poco. No, noi abbiamo fatto, secondo me, una partita nel primo tempo non come le ultime, però sicuramente abbiamo fatto una partita, siamo andati in vantaggio su un errore loro, abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-0, clamoroso, una bellissima azione del cross di Pifano con l'azione di Chietà, che la palla è andata alta. E sul capovolgimento di fronte c'è stata una punizione e loro hanno fatto l'1-1. Poi la partita è stata molto combattuta, soprattutto a metà campo, dove loro onestamente sulle seconde palle oggi hanno fatto meglio di noi, che è la nostra forza. Il secondo tempo ci siamo riorganizzati, abbiamo ripreso, abbiamo cambiato qualcosa, stavamo giocando la partita, poi c'è stato su un capovolgimento di fronte, io sapevo che sulle ripartenze loro con Palumbo ci potevano mettere in difficoltà, così purtroppo è stato, ci è venuto fuori il calcio di rigore, noi abbiamo continuato a giocare, anche in maniera più di cuore che con grandissime geometrie. Però ciò nonostante siamo riusciti a creare due occasioni clamorose, una con Ricamato che solo davanti al portiere l'ha buttata in alto e la sforbiciata di Chieda che veramente ha fatto la barba al palo. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, per i tifosi che oggi ci hanno sostenuto in maniera eccezionale, però il calcio è questo, di fronte c'è sempre una squadra che cerca di vincere le partite, noi non siamo assolutamente il Real Madrid, siamo una squadra di ragazzi in gamba e questa sconfitta non ci deve assolutamente far perdere quella che è la nostra identità, quella che è la nostra forza, cioè quella di essere sempre motivati al massimo e cercare di giocarci le partite al 100% contro tutti. Mister, la porta di casa è stregata ultimamente per l'Agnolo, diciamo a tre camere spenti, ma insomma il dato di fatto è questo, negli ultimi 16 metri sotto porta i suoi ragazzi forse hanno la sindrome della calamita al contrario, bisognerà lavorarci su oppure forse magari è un momento di sfortuna e che può capitare come diceva lei nel calcio, ci sono questi momenti? Guarda, noi abbiamo fatto 16 gol con quello di oggi, abbiamo fatto 16 gol ma ne creiamo tante di situazioni, poi ci può stare come è successo oggi che arriviamo sotto rete e sbagliamo, altre volte facciamo gol, ma fa parte del calcio, insomma non è nulla di eccezionale, cioè oggi è una partita che sapevamo che il derby è una partita particolare, loro sono venuti qua, hanno fatto la loro partita, noi abbiamo cercato di fare la nostra, oggi non ci è riuscito tutto bene quello che volevamo fare, quello che avevamo preparato, però il calcio è così, le partite si giocano, a volte riesce tutto, a volte riesce qualcosa di meno, a volte viene premiato da risultato, a volte non viene premiato, per me dibattisco, mi dispiace, però non è che... Però mister lei è soddisfatto, lo vedo e lo leggo, perché la prestazione, perché alla fine ci sono sempre gli applausi, alla fine la piazza sente, Agnone sente che i ragazzi danno il massimo, poi non ci si esce, come dice lei, ci può stare. No, io non sono assolutamente soddisfatto. Anche della prestazione? No, perché possiamo fare meglio, abbiamo fatto meglio, c'è l'amarezza della sconfitta, della partita persa, però c'è anche la consapevolezza che questi ragazzi stanno facendo delle cose straordinarie, oggi abbiamo perso e ci può stare, perché se noi facessimo una tragedia, la prima sconfitta all'Agnone, significa che qualcosa qua non sta andando nel verso che deve andare, nella logica delle cose, perché ci può stare che noi possiamo perdere, ribadiscono. La cosa importante per me è assolutamente non deprimerci per una sconfitta, che a me personalmente brucia, ma penso che bruci anche i ragazzi, però c'è anche la consapevolezza che questa è una squadra che ha gli attributi. Parliamo ora di calcio di eccellenza, il Boiano non conosce ostacoli, sei vittorie in altrettante partite in campionato, quattro in Coppa Italia. I Matesini iniziano a preparare da oggi la gara con il calcio d'Auna, vediamo il servizio. Che il Boiano rappresenti lo zoccolo duro del campionato, lo si capisce anche seguendo una sola partita, e i numeri e le statistiche sono dalla nostra in questo caso. Punteggio pieno per la squadra Matesina, che ha deciso di andare allo scoperto, ammettendo di volersi mantenere alta in classifica, per volare verso la vittoria finale, e che pare, finora, di ostacoli concreti non ne abbia. Forti dell'ultima vittoria contro il vasto Girardi, per tre reti a uno, il Boiano nella prossima gara sfiderà la gioventù calcio d'Aunia. Proprio la squadra pugliese ha il morale a mille, avendo battuto in casa il Campobasso 1919, altra favorita del campionato, per due a uno. Mister D'Angelo crede quindi nella possibilità dei suoi ragazzi, soprattutto con il rientro, dopo tre turni di assenza, del difensore centrale Roberto Cardone. Eppure il Boiano più volte ha dimostrato di non avere paura di nessuno, e forse anche ha ragione. A dividerli dalla squadra di Mister D'Angelo ci sono esattamente nove punti, molti, forse troppi. Il Boiano ad oggi è l'unica squadra a punteggio pieno, a inseguirla solo il Fornelli, per ora fermo a 16. La formazione che domenica scenderà in casa si presuppone sia sempre la stessa, quella vincente. Piena fiducia quindi ai soliti bomber in attacco e a quella difesa che finora non teme rivali. E cambiamo argomento, veniamo al calcio A5 di Serie B. La Five Campobasso, dopo la sconfitta di sabato contro il Monte di Procida, cercherà il riscatto sabato prossimo in casa della capolista Real Molfetta. Ascoltiamo l'allenatore rosso-blu, Marco Sanginario. Mister, una sconfitta quest'oggi all'esordio casalingo. Come ha visto la gara contro la Trecone? Il primo tempo è abbastanza equilibrato, il secondo tempo il divario tecnico-atletico della squadra napoletana si è potuto vedere in pieno. Credo che loro abbiano avuto maggiori ricambi anche per quanto riguarda la panchina e tutto sommato è una sconfitta meritata. La squadra ha giocato a mio avviso anche molto bene, forse ha mancato qualcosa in questione di realizzazione, possiamo dire così. Lei come ha visto la squadra avversaria, il Monte di Procida? Allora, io credo che loro avevano un possesso palla maggiore, soprattutto avevano giocatori che erano capaci di creare la superiorità numerica, cosa che noi non abbiamo fatto mai. Per quanto riguarda la mia squadra, ti dico che il Five probabilmente non sono queste le partite dove dovrà fare i punti. È chiaro che se venissero dei punti contro squadre importanti come la Treconet saremmo tutti ben lieti di accettare. Per quanto riguarda la domanda tua su come ho visto la Treconet, ho visto una squadra veramente ben impostata. Non dipendichiamoci che alcuni elementi della Treconet tra l'anno scorso facevano parte del Napoli in Serie A, quindi è gente abituata a giocare a certi livelli. Credo che con un maggior ricambio avremmo potuto portare a casa anche qualche punticino. Non dipendichiamoci che abbiamo delle assenze importanti, anche se chi è entrato al posto loro comunque si è comportato molto bene, sono dei giovani che si sono comportati molto bene, però è anche vero che Lombardi e Passarelli al momento in cui stiamo non si possono regalare a nessuno. Lombardi tra l'altro la scorsa settimana è stato colui che ha fatto due gol contro il Monopoli. Riaspettiamo pure il Bomberlalli che non è al 100%. Quando riusciremo a trovare questa quadratura credo che potremo affrontare con maggiore tranquillità anche le squadre con caratura tecnica e tattica superiore a quella nostra. Cagliazzo, il vostro capitano a mio avviso è il migliore in campo per i suoi. Come l'ha visto in campo il capitano della FAI? Io sono abituato alle prestazioni del mio capitano, ha sempre fatto prestazioni importanti e ti dirò che sono anni che lo conosco e ti posso dire che non è stata la sua migliore partita. Questo vuol dire che essendo stato lui il migliore in campo dobbiamo rivedere qualcosa. Domenica prossima si va a Molfetta, lei si aspetta magari forse la prima vittoria in campionato? Ma Molfetta, poi abbiamo l'Isernia in casa, cioè vale a dire che abbiamo due squadre che chi dichiaratamente e chi non puntano per la vittoria del campionato. Quindi saranno due sfide dove probabilmente sarà difficile fare i punti, non ci dobbiamo demoralizzare, non sono queste le partite dove a noi serve andare a punti, la partita importante era a Monopoli e non l'abbiamo sbagliata. Solo con questa convinzione e con questo spirito possiamo riottenere la salvezza. Se ci iniziamo a demoralizzare contro squadre più attrezzate si inizia a fare dura il cammino, quindi restiamo tranquilli, siamo caduti ma siamo caduti in piedi. E concludiamo l'informazione sportiva di Molise TV con una notizia di Tennis Tavolo. Nello scontro clou della seconda giornata del campionato di serie C2 regionale, l'ASD Tennis Tavolo Campobasso ha battuto per 5 a 1 in trasferta la formazione dell'ASD Universal Gym Center Risernia. Per i campobassani due punti a testa per Stefano Cosimi e Francesco Petrella, mentre l'ultimo punto è stato conquistato da Luca Lupo. Per i pentri il punto della bandiera è arrivato da Francesco Giannini, vittorioso per 3 a 1 sul lupo. Con questa vittoria il trio Campobassano si attesta al primo posto della classifica generale. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Grazie di averci seguito e l'appuntamento è con la prossima edizione dell'informazione sportiva di Molise TV. Grazie a tutti.